Allora io voglio dire con forza, io mi sono candidata, sì, non è un gesto individuale, perché intorno a me ci sta la rete sociale vera, quella che veramente vuole dire la sua. Non mi sono candidata per fare una corsa in solitudine, si è ben chiaro, perché se no neanche sarei partita. Io mi sono candidata, e lo so, solo Dio sa quanto dovrò correre io, per raggiungere e colmare il cap mostruoso che c'è tra noi e un amparato di correnti. Io mi sono candidata per dire che c'è tanta gente, come oggi è in questa platea, che vuole essere rappresentata, a cui non si possono imporre né le scelte politiche né le scelte amministrative, soprattutto quando le scelte amministrative sono poco coraggiose, poco riformiste e poco chiare.